L'aperitivo estivo è brucia grassi, robellini alla fragola. Ciao amici, cosa c'è di più bello che gustarsi un aperitivo estivo fresco e stimolante che anche brucia grassi? Il famosissimo Bellini è un cocktail di origine veneziana amatissimo in tutto il mondo e oggi lo vediamo in versione analcolica e raw, adatto agli amanti dei cocktail a base di frutta e verdura, detox e dimagranti. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. I suoi pregi principali, antiossidante e brucia grassi. Questa ricetta non è veloce, è quasi istantanea, perfetta per i momenti speciali e se avete ospiti che improvvisano una visita. Fragole e zenzero sono eccezionali insieme, gusto, benessere, vitamine, detox e dimagrimento in una bevanda tutta estiva. Ecco come si prepara. Robellini alla fragola, cocktail freddo per 4 persone, 2 tazze di fragole intere, 50 ml di kefir d'acqua o acqua frizzante, 2 pere williams, 2 zucchine, 2 cm di radice di zenzero, quanto basta di zucchero di canna integrale per la decorazione. Tempo di preparazione circa 10 minuti più il tempo di raffreddamento. 1. Sbucciare gli ingredienti, tagliare la parte verde delle fragole, sbucciare le pere, pelare lo zenzero e mondare le zucchine. 2. Tagliare frutta e verdura, tagliare a pezzettini il resto della frutta e della verdura. 3. Estrarre il succo, mettere tutti gli ingredienti nell'estrattore e via! Segreto speciale, adesso aggiungere il kefir d'acqua o l'acqua gassata che darà il tocco frizzantino. Robellini anche a colazione squaletto! 4. Raffreddamento, metti il robellini in congelatore per 15 minuti. Prima di versare il bellini, bagnare il bordo dei bicchieri con l'estratto e guarnire con lo zucchero di canna. Servire subito! Proprietà degli ingredienti principali. Le fragole sono disintossicanti e depurative, oltre a essere rinfrescanti. Sono ricchissime di vitamina C che aiuta a tenere attivo il metabolismo. Le pere Williams sono dolci e succose, molto sazianti e efficaci contro la stipsi. Grazie all'apporto vitaminico sono consigliate nelle diete dimagranti. Le zucchine contengono pochissime calorie, sono diuretiche, ricche di fibre e di antiossidanti. Sono ideali per fare detox. Lo zenzero facilita la digestione e contrasta la pancia gonfia, oltre ad attivare il metabolismo e avere proprietà bruciagrassi. Lo zucchero di canna integrale è un dolcificante che non subisce raffinazione chimica, quindi l'indice glicemico e insulinico sono più bassi. Il kefir d'acqua è una bevanda fermentata ricca di probiotici, utile per la salute di stomaco, intestino e sistema immunitario. Ho spiegato come farlo a casa in questo video e in descrizione trovi il link al mio libro di ricette raw scritto insieme alla vegan and raw chef Serena Babbo. Curiosità, il Bellini è stato ideato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, barista del noto Harris Bar di Venezia. Il nome Bellini è un omaggio al pittore veneziano Giovanni Bellini, il giambellino, che usava lo stesso colore rosato nei suoi dipinti. Per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia e bevi consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente! Ciao!